è migliorato sta migliorando bravo 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 è che qua si non l'ha fatto a zero a zero bravo ragazzo ecco adesso arriva lui lo vedi a 18 adesso la fa lui tanto non riesce non riesce oh fai la zona fai la zona la zona dei bambini fai la zona non sei capace l'ha fatto lui adesso a zero dai tu hai le gambe più lunghe fai la zona forza fai vedere dai ditele al gas perché te la fa vedere a piedi fammelo vedere te Giro eh ma non c'è la videocamera dietro vai te vai dai non è finita eh finisci là dai seguimi a me vediamo se riesci a seguirmi adesso gliela modifico perché lui c'ha le gambe lunghe no no oh adesso parla con me Gaspari guarda che gliela modifico seguimi però non fare furbo non è finita ah maledetta fetente bagno dai andiamo via basta facetelo stare bene però non è venuto dietro ma avete cagato se può condire dai tu che coglioni andiamo 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 we Grazie a tutti.